si apre anche la nostra rassegna stampa e a Roma ci ha raggiunti Davide Giacalone, bentornato, buongiorno Davide buongiorno, bentrovati, eccoci qua buongiorno, buongiorno Davide, allora l'apertura del Sole 24 Ore oggi è dedicata alle parole di Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, ieri all'assemblea dell'associazione bancaria italiana biegno di crescita per l'Italia, il titolo che ne fa in apertura il Sole 24 Ore, restano incertezze, dice pronti a possibili crisi in piccoli istituti e poi le parole anche del ministro dell'economia Franco, il secondo trimestre porta il PIL a più 2% per il fisco riforma con l'occhio ai conti a te Davide allora, possiamo ripetercelo ogni giorno, le previsioni per la crescita di quest'anno sono buone ma perché non dici eccezionali, straordinarie, 5% ma chi l'avrebbe mai sognato, non sottovalutiamo, diamo con forza le notizie positive sì, 5% è tanto, ma è 5% sull'anno scorso, cioè quando abbiamo fatto un tonfo che la metà bastava siamo quelli che siamo scesi di più in Unione Europea tra i grandi paesi e questo è il rimbalzo il tema vero, grosso, è quello di stabilizzare la crescita, non al 5% magari, 2,5-3% negli anni prossimi cioè tenere un ritmo di crescita continuo e questo è lo sforzo combinato di investimenti e di riforme necessarie sul lato riforme, al momento diciamo che ci prevale la rissa in Parlamento rispetto all'indirizzo di cambiamento del governo staremo a vedere in quegli interventi fatti all'Associazione Bancaria Italiana significativo il dato che emerge in questo momento nei conti correnti bancari sono fermi 460 miliardi delle aziende con una crescita rispetto all'anno scorso del 16%, più 16% e 900 miliardi delle famiglie con una crescita rispetto all'anno scorso del 7% attenzione, non è che ci siamo arricchiti e che abbiamo speso e investito di meno, quindi ci sono più soldi però quei soldi sono tanti, 460 più 900 miliardi sono 1.360 miliardi è altro che fondi sono però fermi sui conti correnti, perché? ma perché in realtà c'è un disincentivo in Italia a portarli dove sarebbe magico vederli e cioè al capitale di rischio della produzione che cresce perché il fisco mi punisce se lo faccio perché se ci perdo perché il rischio è il rischio quindi non è che uno guadagna sempre se ci perdo sono affari miei se ci guadagno il fisco ne vuole troppo a quel punto io ho considerato il rischio di perdere il fatto che il guadagno è in parte limato dal fisco sapete che c'è, li lascio fermi e così sono sicuro e tutto sommato mi costa meno questa è una delle riforme da farsi perché senza ipocrisie bisogna portare i soldi tanti degli italiani fermi a diventare capitale in movimento e per far muovere il capitale bisogna premiarlo se ogni volta che parli di capitale la prima luce che ti si accende in testa è come faccio a tassarlo un po' di più il risultato è che poi ti rimangono soltanto le energie oggi molto forti ma non potranno così essere sempre della spesa pubblica andiamo su altre due prime pagine Corriere della Sera apre con la fotonotizia l'Italia ci regala una notte magica siamo in finale e poi il titolo centrale legge Zan battaglia in aula voto al buio scontro tra Lega e PD Bisco e Franco la ripresa si rafforza su Repubblica apertura molto simile foto dell'Italia Italia quanta sofferenza ora il sogno è vicino ma anche qui uno dei titoli principali in prima pagina è proprio quello sul DDL Zan legge Zan a rischio la battaglia va in aula oh pare che nell'estate del 2021 ci sia un sacco di gente che ha scoperto che c'è il Parlamento e come funziona ma è così è sempre stato così non è che sia un dramma non è un dramma se una legge anzi un disegno di legge quindi non è ancora una legge un disegno di legge viene portato in Parlamento per essere discusso e viene emendato è finita disastro non si fa più no è normale cioè si fa così nei Parlamenti di tutto il mondo e non è un disastro nemmeno se una maggioranza in commissione dice no a noi non ci non ci interessa discuterlo ed eventualmente cambiarlo per avere un consenso più ampio noi lo vogliamo portare direttamente in aula cosa che avverrà il 14 e di il 13 o il 14 mi ricordo il 13 il 13 di luglio lo vogliamo portare direttamente in aula e dimostrarvi che abbiamo la maggioranza per farlo passare perché dov'è il dramma dov'è il dramma va bene così non sarà la fine del mondo né in un caso né nell'altro quello che un po' diciamo in tutto ciò disturba è che si è diventato una battaglia di mera bandiera cioè ormai il merito è sfumato cioè si va per slogan e non si va però diciamo che è uno dei difetti della nostra vita è talmente vero che abbiamo diciamo sembra essersi scoperto il mondo parlamentare che capita anche delle polemiche diciamo extra parlamentari come qualche influencer che dice rivolgendosi a Renzi poi sostanzialmente dice ai politici fate schifo perché perché cercate la mediazione il compromesso io ci andrei piano perché capisco che diciamo così la fretta di dover twittare o instagramizzare o come cavolo si dice ma se magari diciamo si trovano due ore di tempo libero e prendono un bignamino siano attenti perché il dileggio del parlamentarismo e del compromesso senza distinzione di rosso e nero è il linguaggio dei dispotismi e delle dittature quindi c'è andrei ma dopodiché uno ovviamente può pensarla come crede e naturalmente condannare chi la pensa obbligo biasimare chi la pensa diversamente allora Davide questa mattina ci hai segnalato un editoriale a pagina 3 del foglio si scrive fine vita si legge eutanasia il sì in commissione ha un testo che spinge l'Italia verso il piano inclinato a te sì l'ho segnalato perché è stridente la contraddizione tra l'enorme attenzione legittima per carità ci mancherebbe altro attorno a un disegno di legge sulle discriminazioni sessuali e la stranezza del dibattito che attorno a questo si sviluppa vi segnalo per esempio una intervista interessante a Stefano Fassina su Repubblica che è uno dei leader di Libri e Uguali la sinistra insomma sinistra la sinistra sinistra e qua dice destra è Italia dei valori quindi Renzi strumentali ma la legge è da cambiare tu ti devi decidere o la legge è da cambiare però tutto questo è molto caldo intanto in commissione al Senato senza che nessuno ne parli passano delle modifiche alle leggi relative al fine vita che è un tema delicatissimo intanto perché ci riguarda tutti perché una cosa diceva la fine vita sarebbe l'agevolazione al passaggio ultimo che si potrebbe chiedere si potrà chiedere se la legge passa quando la diagnosi è in fausta e le tue condizioni cioè devi morire e le tue condizioni di vita non sono accettabili o non sono vivibili ora questa è una cosa che ci riguarda tutti sappiamo per certo che prima o dopo ci arriviamo tutti non sappiamo quando non sappiamo come ma ci arriviamo tutti quella è una cosa di rilevanza collettiva e mette il piede su un terreno scivolosissimo però al tempo stesso molto molto importante che è il confine tra diciamo così il sostegno umano a una condizione difficile e quella che invece è denominata eutanasia cioè la soppressione anche su mia richiesta volontaria con l'assistenza pubblica quello che si chiama diciamo molto c'è il fine vita c'è l'eutanasia e c'è il suicidio assistito sono in realtà cose diverse ma insomma non abbiamo il tempo di vedere tutto ma insomma il pezzo del foglio sostiene guardate che si comincia in un modo e si finisce con l'altro tema e discussione interessante c'è fosse uno che la fa invece su quell'altra cosa è la grande attenzione come vedete la divisione politica prevale sulla sostanza delle cose che si discutono e questo non è una bella cosa andiamo anche sulla stampa Davide il titolo anche in questo caso con la fotonotizia è sulla nostra nazionale di calcio con un bel ricordo anche di Raffaella Carramba che è Italia questa è la scelta della stampa di questa mattina e poi a centropagina giustizia via alla riforma cartabia domani testo in consiglio dei ministri cambia la prescrizione a processo solo se le prove giustificano un'ipotesi di condanna stiamo andando verso una buona riforma Davide lo saremo a vedere quando leggeremo nei dettagli e non nei titoli anche perché molto spesso come qualcuno ha scoperto che esiste il Parlamento nell'estate del 2021 qualcuno scopre che esistono le leggi diciamo che per esempio attenzione con la riforma si andrà a processo solo se esistono le concrete possibilità di condannare ma è già così secondo voi l'udienza preliminare perché si fa perché è ovvio che se tant'è vero che il giudice dell'udienza preliminare dettaglio molto interessante e umanamente rilevante diciamo in quelle aule e normalmente pronuncia la fine la fa da seduto cioè stando seduto dice tizio se ne vanno a giudizio perché non è una sentenza abbiamo solamente vagliato che le cose portate dall'accusa stanno in piedi poi per il resto diciamo se sono vere non sono vere sono approvate bisogna fare il processo però c'è un caso in cui si alza in piedi e dice in nome del popolo italiano cioè erano talmente campate per aria le cose che il giudice dell'udienza preliminare direttamente si alza e lo assolve il condannato e l'imputato perché gli dice se non stai in piedi e dice in nome del popolo italiano ti assolgo quindi queste cose esistono già perché allora continuate a riformarle perché se non fai funzionare la macchina della giustizia non ti funziona mai allora se tu hai la macchina che non c'hanno più i copertoni hai voglia a cambiare a continuazione i pistoni dicendo la macchina non cammina ho cambiato i pistoni la macchina non cammina ho cambiato il carburatore non c'hai i copertoni dopo di che puoi cambiare quello che ti pare non cammina allora lì è il meccanismo di funzionamento riuscirà il disegno cartabia a mettere il rimedio lo vedremo leggendolo vi segnalano che nel frattempo tutti a parlare della prescrizione la corte costituzionale l'altro ieri ha fatto fuori un pezzo di quella storia che avevano fatto durante il covid per cui se il giudice o il tribunale nella sua organizzazione durante il periodo del covid rimanda alle udienze queste sospendono il periodo di prescrizione la corte costituzionale ha detto ma voi siete matti cioè questo è un diritto individuale che perché c'è un problema organizzativo del tribunale gli sospendi e ha cancellato questa legge anche questo passa nel silenzio mentre però quando lo fai tutti i grandi titoli hanno un problema serio anche di informazione nelle pagine interne di Repubblica la variante delta di Laga in Europa l'abbiamo ricordato poco fa nel notiziario casi tra i vaccinati ma non sono gravi il ceppo diventa prevalente il ministro dice non abbassiamo la guardia ed è insomma sono proprio le parole del ministro che aprono pagina 5 del Corriere contagi in ripresa alto alla disperanza cautela perché queste sono settimane cruciali Davide vedi quella quella affermazione di casi fra i vaccinati ma non sono gravi merita di essere quantificata quello deve diventare un numero cioè quello che si osserva si vede è che è vero che i contagi galoppano è il ragionamento che hanno fatto nel Regno Unito ne parlavamo ieri è vero che i contagi galoppano ma siccome i vaccinati ne hanno conseguenze tutto sommato blande niente di drammatico beh allora possiamo accettare il rischio di muoverci naturalmente mettendo a disposizione dei non vaccinati il vaccino poi se non lo vogliono fare si regoleranno come credono questo vale nel Regno Unito in Italia siamo ancora più bassi come percentuali di vaccinazione quindi dobbiamo essere più prudenti però questo si osserva si vede abbiamo notato che deve diventare un numero la fondazione Naudi l'ha chiesto come trasparenza degli atti ma insomma forse il ministero della sanità al commissario farebbero bene a prendere l'iniziativa per i fatti loro quanti dei ricoverati oggi in terapia intensiva sono occupati al 2% quindi grande sospiro di sollievo cioè vanno bene non c'è molta gente quanti di quelli e quanti purtroppo di difunti sono vaccinati posto che il vaccino non è che è la salvezza del mondo è chiaro che se fai il vaccino a 87 anni diciamo relativamente in un tempo non infinito te ne vai all'altro mondo il problema è quanti sono vaccinati perché se avessimo la cognizione numericamente riscontrabile che sono molto pochi potremmo permetterci di più naturalmente vaccinando molto di più di quanto non si stia facendo fino adesso se invece avessimo una percezione diversa dovremmo cambiare il nostro ragionamento ma ripeto non può essere un pare che si dice forse si osserva deve essere un numero deve essere chiaramente quantificato abbiamo una manciata di secondi però il tema scuola vorrei toccarlo scuola il caso dei professori Novax sul messaggero sostegni alla scuola 400 milioni per evitare le elezioni da remoto sul sole davide 400 milioni per assumere altro personale che serva per coadiuvare il covid sulla questione covid va bene purché la scuola sia fatta in presenza non abbiamo più il tempo per sperare di poter vaccinare tutti i ragazzi che vanno a scuola quindi è inutile che ci facciamo illusioni dovremo però riaprirle comunque e riaprirle con queste precauzioni e i docenti che sono stati in cima alle liste per le vaccinazioni fin dall'inizio che non si sono voluti vaccinare un po' come i sanitari a un certo punto come dice ragazzo ti assumi le tue responsabilità e semmai viene un altro posto tuo mi sembra chiarissima la tua posizione grazie Davide Giacalone appuntamento domani mattina 7.10 per la rassegna stampa grazie a voi buona radiovisione a tutti